Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale oggi la dedichiamo alla querella sorta nelle ultime ore a Gela tra la commissione urbanistica, lavori pubblici e programmazione territoriale preseduta da Cristian Malluzzo e del gruppo di lavoro per il porto, la commissione propone di cancellare il gruppo di lavoro se conò arriva da parte dei componenti dello stesso gruppo e no anche da parte del presidente del consiglio comunale Alessandra Asia Botta e risposta tra la commissione urbanistica, lavori pubblici e programmazione territoriale preseduta da Cristian Malluzzo e il gruppo di lavoro per il porto, la gherella nasce dalla richiesta avanzata dalla commissione di cancellare il gruppo di lavoro perché è stato costituito ancora prima che venissero formate le commissioni i rapporti istituzionali sostene la commissione devono essere mantenuti da noi questo gruppo di lavoro non ha più motivo di esistere immediata come dicevamo la replica di alcuni componenti del gruppo di lavoro nonché componenti del comitato per il porto di Gela non capisco perché l'eliminazione di questo comitato, di questo tavolo da lavoro a chi dia fastidio e perché sta dando fastidio mi stranizza che questa eliminazione arrivi proprio adesso che abbiamo concluso quasi tutto e quindi abbiamo portato un buon risultato e subito dopo il discorso del project financing a cui ci siamo opposti un po' tutti quindi mi è strano che dei consiglieri arrivano e propongono l'eliminazione di un gruppo di lavoro che va cancellato addirittura in quanto inutile, che non serve più anche se secondo me non è per niente inutile e ha senso di esistere fin quando a Gela esisteranno i porti a prendere le difese del gruppo è stato anche il presidente del consiglio comunale Alessandra Cia la quale nel rilogiare l'operato svolto fino ad oggi dallo stesso gruppo ha sottolineato che la sua costituzione è stata voluta dall'assise civica e oltre a far parte del gruppo alcuni operatori del settore ne fanno parte anche alcuni consiglieri comunali e i deputati del territorio pertanto, dice, il gruppo non si tocca Noi abbiamo lavorato un anno e mezzo per l'interesse della città a spese nostre autotassandoci e oggi che siamo arrivati quasi al traguardo c'è l'interessamento di questi politici ma che vogliono fare? che cosa vogliono fare? non lo stiamo capendo che interessi hanno? nel gruppo di lavoro sono presenti diverse forze politiche le maggiori forze politiche rappresentate nel comune di Gela ma non hanno mai manifestato una fase di campagna elettorale del gruppo abbiamo lavorato sempre in sinergia quindi non capiamo perché se c'è qualcuno che ci deve remare contro che venga e ce lo venga a dire noi faremo di tutto di tutto per arrivare al nostro scopo cercare di riportare un porto a Gela siamo stupiti perché il nostro gruppo di lavoro alla fine è l'unico tavolo di concertazione vero che c'è all'interno del comune di Gela ribadiamo che è a costo zero e se facciamo il paragone con le varie commissioni compreso quella urbanistica che sono presenti al momento abbiamo portato un risultato che non è paracolabile a nessuno c'è la conclusione di un iter dopo 40 anni per il porto rifugio di Gela secondo me l'attacco è più politico perché si riferisce magari all'attacco che abbiamo fatto noi che volevamo essere messi al corrente sul project financing che anche quello ci stupisce perché davanti a tutti il sindaco ha dichiarato che erano solo chiacchiere e poi viene smentito di nuovo dal vice sindaco l'indomani per la prima volta forse li vediamo separati questa amministrazione siciliano-messinese non esistono città felici e città infelici esistono invece cittadini che ambiscono alla normalità e ogni giorno tentano di rivendicarla normalità è come nel caso di difiuti un po' di logica che chi amministra dovrebbe possedere e quindi usare lo dice Ignazio Giudice, segretario generale della CGL si sa la raccolta differenziata è giusto farla ad operarsi per migliorarla sanzionare chi non la fa il kit, il grande assente, questa star che dovrebbe arrivare ma non arriva non è normale non consegnarlo prima della rimodulazione no cari amministratori, dice Giudice, noi cittadini dovremmo farvi le multe per non avere messo nessuno di noi in condizioni di rispettare le regole la sanzione allora è la nostra critica leale, ricca d'amore per la città dalle periferie al centro storico adoperatevi con umiltà ascoltando la popolazione dai cittadini ai tanti commercianti sindaco, amministratori, se non potete incidere sul cambiamento almeno se non chiedo troppo, dice Giudice, ambite alla normalità non giudicate cosa mangiano i cittadini del quartiere Santa Lucia ognuno di noi giudichi se stesso e se proprio resta tempo e mi auguro di sì, continua Giudice, fate pace con i cittadini la sfida non è con loro ma per loro, dai bambini agli anziani questo consiglio mi sento di darvi e se troppo non lo ritiro ma chiedo umilmente una riflessione di merito meno atti da Superman e più da cittadino onorato di rappresentare la città di Gela e adesso torniamo ad occuparci della vicenda relativa al disagio al reparto di malattie infettive dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela lunedì manifestazione di protesta sull'argomento interviene anche la Commissione Consiliare Sanità e Ambiente no alla chiusura dell'unità complessa no all'ennesimo furto commesso ai danni dei gelesi la Commissione Consiliare Ambiente e Sanità di Gela intende approfondire la vicenda e valutare le reali intenzioni della direzione strategica al fine di poter contribuire con ogni mezzo affinché ciò non avvenga riteniamo che un comprensorio come quello di Gela non possa perdere le parti che si sono distinti in passato per l'alto profilo sia in termini di casistica di profitto per professionalità rappresentando un fiore all'occhiello della sanità locale Gela e i cittadini non possono continuare a vedersi sottrarre importanti servizi senza una giustificata o quantomeno chiara motivazione lo dice il Presidente della Commissione, il Consigliere Virginia Farruggia che ha partecipato al sit-in organizzato dal sindacato infermieristico Nursind e dalle associazioni che operano all'interno della struttura ospedaliera per accendere riflettori su un altro potenziale furto reso ai servizi sanitari locali in danno dei cittadini gelesi La Commissione Ambiente e Sanità aveva incontrato a Caltanissetta la direzione strategica il 21 luglio scorso per discutere tra gli altri delle criticità del reparto di malattie infettive e in quella sede, dice Farruggia, abbiamo appreso del disagio relativo al reparto per la carenza di organico e della volontà della direzione di sfruttare il momento critico per la mancanza del personale nonché i mesi estivi per effettuare il trasferimento dello stesso dal quarto piano al primo che attualmente ospita il reparto di UTIC provvisto di scarichi indipendenti così da garantire una corretta espletazione dell'assistenza ai cittadini Dopo però abbiamo saputo della volontà di chiudere il reparto come Commissione Ambiente e Sanità, rimarca Farruggia abbiamo ricevuto rassicurazioni in merito al fatto che sia stato solo un momentaneo spostamento di reparto per far sì che i malati potessero ricevere più assistenza vista l'inadeguatezza dello stesso nonché per sopperire alla carenza di personale medico ma rimaniamo ugualmente guardinghi e aspettiamo soluzioni più adeguate Avendo preso inoltre dello sblocco dei concorsi alla regione siciliana speriamo di poter valorizzare tutti i reparti e non solo quello di malattie infettive attraverso la presenza di professionalità che oggi si sentirebbero mortificate da contratti precari e infrastrutture carenti Ad oggi però rileviamo l'assenza di notizie circa il trasferimento dei due reparti in questione Inoltre ci chiediamo come sia possibile attraverso la mobilità interna far prestare servizio a Mazzarino ai nostri anestesisti e invece chiudere un reparto così importante a Gela pur avendo quattro medici infettivologi a Caltanissetta che potrebbero sopperire ai disagi che attraversa il reparto per la carenza di organico La Commissione inoltre si dice dispiaciuta per non avere visto ieri nessun rappresentante dall'amministrazione presente alla sitina per manifestare il dissenso per i potenziali scenari dopo soprattutto avere fatto una guerra senza criteri che aveva tutte le caratteristiche di un conflitto politico legato alla persona piuttosto che un'azione volta al miglioramento della sanità locale Siamo certi, chiude la nota, che la direzione strategica attiverà ogni possibile soluzione per scongiurare la chiusura del reparto di malattie infettive e continuerà a lavorare nella direzione giusta per garantire servizi sanitari efficienti ed eccellenza al nostro territorio in attesa da troppo tempo La Commissione, i sindacati e le associazioni lavoreranno in sinergia per dare un contributo fattivo come è stato fino ad oggi alla direzione strategica dell'azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta Il reparto di malattie infettive non è chiuso ma è solo ridimensionato L'ospicio è che tutto questo rientri nel più breve tempo possibile come garantito dall'azienda sanitaria provinciale lo dice il sindaco di Gela, Domenico Messinese che è intervenuto sui servizi offerti dal Vittorio Emanuele La vicenda ha continuato al gusto amaro di una beffa per l'improvvisa rinuncia di un medico incaricato che ha optato per un altro nosocomio Manteniamo alta l'attenzione su questo ed altri episodi che toccano da vicino la salute dei gelesi valutando positivamente la ricerca da parte dell'Asp di un sostituto provvisorio in attesa di un concorso per primario in malattie infettive fissato ad ottobre Intanto i casi più gravi saranno trattati a Caltanissetta ma nel frattempo a Gela si sta lavorando per migliorare la situazione con una camera pressurizzata e l'arrivo della TAC ad ottobre Registriamo un positivo cambio di passo in linea con le nostre richieste ha concluso il sindaco ma al contempo continuiamo a monitorare i servizi con l'ospicio di un ospedale più funzionale entro la fine dell'anno E adesso parliamo della richiesta l'ennesima avanzata dal segretario locale di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale Gaetano Minardi agli enti istituzionali al fine di intervenire sullo stato di abbandono in cui versano il Cartodromo, il Palalivatino e il Parco di Montelungo E' tornato nuovamente alla carica chiedendo interventi al sindaco, al presidente del Consiglio Comunale e ai capigruppo consigliari in medito alla vicenda Cartodromo, Palalivatino e Parco di Montelungo lui è Gatano Minardi, segretario giulese di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale aveva già scritto lo scorso 29 giugno ma non ha avuto alcuna risposta in merito Minardi sottolinea lo stato di abbandono e degrado in cui versano i tre spazi sportivi e naturalisti le opere sono oramai divenute luogo di discarica abusiva di materiali di qualsiasi genere ed in particolare di amianto i rappresentanti delle istituzioni comunali di Incare Minardi devono attivarsi al fine di provvedere alla bonifica dei siti con particolare attenzione alla rimozione e smaltimento dello stesso amianto le tre strutture sono di proprietà del Libero Consorzio di Caltanissetta ex provincia regionale ma il sindaco continua ancora il segretario di Fratelli d'Italia attivando i poteri che la legge gli conferisce a tutela della salute e dell'igiene pubblica può adottare i provvedimenti urgenti e necessari per garantirne la sussistenza inoltre in considerazione della grave crisi economica, sociale e industriale in cui versa la comunità locale Minardi invita il primo cittadino e le istituzioni ad attivarsi e o attivare tutte le procedure e i canali politico-istituzionali necessari al fine di acquisire al patrimonio comunale il cartodromo, il paralivatino e il parco di Montelungo la discussione, se necessario, potrà essere portata in consiglio comunale o alle conferenze dei servizi la valorizzazione e la riorganizzazione di questo immenso patrimonio potrebbe costituire un importante volano di ripresa e di sviluppo economico per il nostro territorio continuo Minardi e rilanciarne la stessa immagine il cartodromo di Contrada Zai è unico nel suo genere in tutto il Mezzogiorno d'Italia per caratteristiche e grandezza il parco di Montelungo è stato sede di un campo di tiro a piattello e di una pista di motocross inseriti nel circuito delle gare nazionali mentre il paralivatino, al di là della sua attuale destinazione di Geminardi potrebbe essere trasformato in una piscina pubblica coperta la giunta municipale di Gela ha deliberato di affidare la gestione di tre moduli abitativi completi di arredi e attrezzature per la realizzazione di un centro aggregativo in Contrada Marchitello possono presentare manifestazioni di interesse per l'affidamento le associazioni di volontariato che perseguono finalità socio-educative, enti ecclesiastici associazioni temporanee di scopo o cooperative sociali la gestione avrà la durata di 5 anni rinnovabili caratteristiche del servizio e modalità di utilizzo obblighi dell'affidatario sono esplicitati nell'avviso completo pubblicato all'albopretorio e sul sito istituzionale del comune di Gela al link documentazione e modulistica del settore servizi sociali la manifestazione di interesse va fatta per venire in un plico all'ufficio protocollo del comune entro il prossimo 22 agosto operazione ferragosto sicuro a garantire la sicurezza dei nissegni e di coloro che si allontaneranno da Caltanissetta per qualche giorno saranno le forze dell'ordine che vigileranno giorno e notte il territorio controlli a tappeto dunque per contrastare la minaccia del terrorismo dopo gli ultimi attentati in Europa e i reati di maggiore allarme sociale quali furti, truffa ad anziani, rapine e lo spaccio di sostanze stupefacenti oltre ad altri reati contro la persona e il patrimonio si è fatto una valutazione complessiva per tutte queste minacce che si sono accentuate in questi ultimi tempi e sono stati intensificati i servizi sia per quanto riguarda le manifestazioni pubbliche in cui ci sono assembramenti di persone sia i servizi sul territorio per tutti gli obiettivi sensibili è stata una valutazione assunta in sede di comitato quindi concorrono tutte le forze di polizia e lo si è potuto notare anche nella recente attività che è stata fatta in piazza per il ferragosto sostanzialmente per le iniziative agostane della città in cui è stata isolata completamente la zona soprattutto dopo i fatti di inizio queste sono le indicazioni che arrivano sul territorio per dare più tranquillità e più sicurezza alle persone che partecipano a questi eventi questa è stata la priorità che in questa fase si è voluto adottare chiaro che questo comporta un'implementazione di risorse notevoli e ci sta facendo fare un extra impegno devo dire molto importante chiudere sempre la porta chiave sensibilizzare i vicini affinché ci sia reciproca attenzione ai rumori sospetti sul pianerottolo appartamento non fare sapere ad estranei programmi di viaggi e vacanze evitare l'accumularsi di poste e pubblicità questi alcuni consigli per scongiorare spiacevoli sorprese al ritorno non siete soli chiamateci sempre è invece lo slogan della nuova campagna contro le truffe agli anziani è un'iniziativa a livello nazionale una sensibilizzazione soprattutto per ciò che attiene le truffe i furti le rapine in danno di persone anziane o comunque di soggetti un po' più un po' più deboli è una sorta di vedeme come un catalogo comportamentale che mette in evidenza quali sono i modus operandi diciamo più modus operandi più comuni di questo tipo di truffatori e tutta una serie di accorgimenti da parte delle persone anziane da mettere in atto quindi per evitare questa forma odiosa di di reato la società cooperativa sportiva direttantistica Poseidon anche quest'estate gestisce la sorveglianza balneare sulle spiagge libere di Gela sono tre le postazioni e sono collocate una incontro da Manfria in prossimità del Lido Orlando un'altra macchitella in prossimità della clinica Santa Barbara ed un'altra tra il vecchio puntile sbarcatoio e il Lido la conchiglia il servizio che è iniziato giovedì 4 agosto e si protrarrà fino a martedì 6 settembre con il raddoppio degli assistenti bagnanti nel periodo di ferragosto dall'11 al 16 agosto ha già visto gli addetti alla sorveglianza delle spiagge protagonisti di due interventi di salvataggio nello specifico sabato scorso e martedì nella spiaggia adiacente al vecchio pontile sbarcatoio sono stati tratti in salvo due bambini che stavano rischiando di annegare e di essere sbattuti sulla scogliera antistante nasce una nuova situazione in città si tratta di gravità zero si punta tra l'altro sull'arte e sulla cultura sarà riproposta la manifestazione Gela in arte vediamo arte e cultura azioni di promozione sociale e territoriale appaiono spesso concetti distanti a volte declinati con inefficacia pesantezza o difficilmente fruibili a tutti in una ipotetica condizione di assenza di peso invece pur mantenendo inalterata la propria importanza essi sono più facilmente afferrabili e godibili arte cultura promozione sociale e territoriale a gravità zero nasce a Gela con questo spirito l'associazione di promozione sociale gravità zero cercheremo di fare delle azioni in cooperazione con gli enti territoriali e le altre associazioni anche perché il terzo settore è un settore molto fertile in questa città in questo territorio è stato quel settore che è stato da traino tutte le iniziative positive che sono state fatte qui spesso si parla di ciò che non va a Gela invece le associazioni sono ciò che invece va ciò che c'è di positivo quindi io credo che la nascita di una nuova associazione dia un impulso alla valorizzazione di questo aspetto e in più collaborando insieme con le altre associazioni credo che in futuro potremo fare degli eventi di qualità e dare comunque delle risposte a una domanda che c'è di cultura e di arte e di promozione territoriale Gravità Zero incarna la voglia di mettersi in gioco la volontà di essere utili a una città e a un territorio lo spirito della associazione ha in sé il valore della valorizzazione del collettivo e della collaborazione partendo dall'esperienza di Gelenart e manifestazione giunta alla seconda edizione l'associazione farà dal confronto con gli altri attori sociali un valore irrinunciabile quest'anno però con gli organizzatori dell'anno scorso abbiamo deciso praticamente di federarci diciamo di costituire proprio un'associazione un'associazione di promozione sociale che ha come scopo quello appunto di valorizzare l'arte e la cultura e il grosso patrimonio umano formato dalle associazioni quindi dalle tante associazioni che nel territorio svolgono un ruolo sociale importantissimo al fine appunto di creare proprio un vero e proprio volano allo sviluppo a un nuovo sviluppo sostenibile diciamo della città attraverso appunto la valorizzazione delle proprie risorse territoriali. Abbiamo pensato di ridare fiducia agli organizzatori per rifare insomma questa bella manifestazione che coinvolge il centro storico e ci dà un tocco di bellezza all'interno del centro storico di Gela. Gela in arte quest'anno si arricchisce intanto di tante collaborazioni come della smaf presieduta da Gaetano Rizzi come la ginnasti club del professore Walter Miciche come il piccolo teatro città di Gela del professore Pardo come il giardino delle muse di Ersilia Spadea un connubio di associazioni che il 27 agosto arricchiranno il nostro corso tanti ginnasti tanti attori pittori che arricchiranno veramente Gela Gela ha bisogno di queste sfumature. Proseguono gli appuntamenti con l'estate gelese. Oggi alle 21 sul lungomale Federico II di Svevia l'associazione Innuendo si esibirà in Pontile sotto le stelle e ai muretti di Machitella concerto live rock legend la notte di San Lorenzo con l'associazione Gelica Folk ci fermiamo linea alla regia per la pubblicità. Ed eccoci seconda parte del telegiornale concerto lirico del duo Giuliana Consiglio soprano e Fabrizio Aquilina pianoforte sabato 13 agosto alle 21.15 nell'ex monastero delle Benedittine nell'ambito dell'iniziativa l'estate gelese con la musica colta promossa dall'associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra in collaborazione con il Comune. C'è chi nelle calde giornate estive si diverte ad organizzare manifestazioni di intrattenimento con tanto di musica chi va in discoteca chi si diverte in spiaggia e c'è chi invece proprio nelle calde giornate estive comunica con gli altri raccontando le proprie esperienze di vita senza alcol e droga un metodo innovativo. L'iniziativa si darà a Gela ai prossimi appuntamento previsto nella piazzetta adiacente alla vecchia dogana nei pressi della capitaneria di Porto sul lungomare Federico II di Svevia 80 ragazzi circa testimonieranno ai loro coetani che ci si può divertire in allegria senza ricorrere a sostanze stupefacenti fumo, alcol ed altro ancora. Quella di Gela è la prima di tre tappe del tour denominato Be Free oltre alla città del golf appuntamenti sono previsti anche a Prato e a Roma per l'occasione il gruppo di missionari ha realizzato anche un video che rappresenta un invito a partecipare e a Roma e a Roma il difensore e adesso parliamo di calcio ed in particolar modo del Gela ai nostri microfoni il difensore Fabio Campanaro Fabio Campanaro è giurato fedeltà amore incondizionato dal Gela con quale augurio affronterete il prossimo campionato di Serie D? Lo affronteremo con grande entusiasmo dopo la vittoriosa annata precedente e lo affronteremo con lo spirito giusto stiamo lavorando parecchio stiamo faticando parecchio ma credo che per la giusta causa speriamo di quest'anno di toglierci tantissime soddisfazioni pur vero lo sottolineiamo che il campionato di Serie D non è il campionato di eccellenza ci sono squadre di un certo blasone che rappresentano un'intera regione e dunque non sarà facile poi riuscire a trovare il giusto equilibrio ma guarda ogni anno il campionato diventa sempre più difficile però questo ci fa capire che incontreremo squadre diciamo più blasonate che hanno una storia come la nostra e sarà anche piacevole giocare fare un po' di calcio rispetto allo scorso anno ci divertiremo ma cosa vuol dire giocare nel gelacalcio il gelacalcio al di là delle categorie diciamo può essere in promozione eccellenza serie D ma quando uno indossa questa maglia ci devi dare il massimo perché c'è una città che ti sostiene che ti viene dietro per tutto l'anno quindi al di là che quest'anno siamo in serie D dove speriamo che la gente viene più numerosa dello scorso anno noi dobbiamo cercare di dare il massimo perché abbiamo una storia dietro e dobbiamo cercare di onorarla al massimo e poi si aspetta il riscontro da parte del tifoso con l'acquisto degli abbonamenti quello senza dubbio infatti invitiamo la gente ad acquistare più abbonamenti possibili perché abbiamo bisogno di loro perché l'abbiamo visto lo scorso anno nelle ultime partite ci hanno trascinato in maniera incredibile vingendo le partite già prima che l'arbitro fischiasse quindi la gente gioca un ruolo molto importante soprattutto in queste categorie perché avere un gambo strapieno 4-5 mila persone diciamo che ti dà una carica incredibile speriamo che la gente quest'anno sia più numerosa dello scorso anno e speriamo di non deluderla e domani pomeriggio alle 17 vincenzo prestigie laia cregas svolgeranno un allenamento congiunto in vista dei rispettivi impegni stagionali l'allenamento è aperto al pubblico appuntamento col teatro vera di 12 agosto alle 21 e 30 all'antitodo di macchitella a gela di scena la compagnia teatrale cast in non ti conosco più il costo del biglietto lo ricordiamo è di 5 euro a coppia abbiamo concluso anche per oggi grazie per averci seguito appuntamento alle prossime edizioni a e Grazie a tutti.